Il menù è stato quello previsto, dall'economia all'Ucraina, dalla guerra a Gaza al diritto all'aborto, dall'immigrazione al futuro della democrazia americana. Nell'ora e mezza del primo e forse unico dibattito televisivo tra i due candidati alla Casa Bianca non sono mancati affondi velenosi e momenti di tensione. Kamala Harris ha stigmatizzato il desiderio di Trump di fare degli USA una dittatura. Ha ricordato l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Gli ha imputato di aver lasciato gli Stati Uniti in una depressione economica e in una crisi sanitaria. Trump ha risposto con il suo stile aggressivo, accusando la sfidante di voler togliere le armi agli americani, di essere nemica di Israele, di voler riempire il paese di immigrati. E qui The Donald si è lanciato in una inventiva contro le comunità di haitiani che mangiano cani e gatti in Ohio. Una fake news che ha suscitato l'ilarità di Harris e costretti i moderatori del confronto a smentirlo. Pacata e determinata la candidata democratica, bellicoso e irriducibile il repubblicano, hanno messo in scena lo scontro tra due tribù che paiono sempre più inconciliabili. E se la maggior parte degli analisti e dei sondaggi assegna ad Harris la vittoria del confronto, ancora più importante può essere l'endorsement a favore dell'attuale vicepresidente, arrivato dalla cantante Taylor Swift, una star capace di influenzare milioni di giovani e magari portarli al voto il 5 novembre.